Entrazione, i sospetti hanno preso il rifugio in l'area e non sono riusciti a cooperarci, iniziamo! Vai vai! Vai via! Dio che era qua che ci aspettava! Bello! Oh, torno che ti aspetta! Coprimi! Non ci sono meno! Fai qui! Sto passi! Che ha preso? Ah, posso! Ok, uno era nascosto nei bagni. Ok. Andando a destra. Oh, merda! Eh, in mezzo alla stanza. Dove? È dritto in mezzo alla stanza. Forse... Oh! Il giubbotto! Il giubbotto! Ok, per giù. L'ho tirato in testa, cazzo. Quella, cazzo. Madonna. Era un attimo. Grande che l'hai bloccato con un scudo vecchio! Oh, cazzo! Io qua, mi ha segato. Dov'è? Eh, l'ho tirato giù. Ok. Su sinistra. Qualche che non siano dietro il balcone. Dietro, 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 dietro! Cazzo è andato. Ok, ce l'ho. Guarda a destra. Ah, cazzo. Ok. È andato a destra. È andato a destra. Sta facendo il giro. Oh, oh! È qua! È tu, è tu. Ok, giù. Mella. Ok. vediamo se è sul piano alto o se no a sotto merda merda occhio occhio perché sono ferito cazzo cazzo non vai mica giù mi ha distrutto le gambe mi sono finito i colpi da pistola è molto sbagliato oh cazzo viene calzano il faggio ok qua sento voce a destra è una roga brutta punto oh si c'è oh ma dai è lo scudo a cosa serve è in fondo sulle scalette fondo dritto sulla scala oh 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 porco dio momento momento come funziona qua oh per fortuna che report eni unarmed red contact io cazzo è imbottito ah tipo se ti scarichi gli spari sulle esatto oh chi è quello? questo? ma questo è arrivato vedete che ha sentito Erioto fin là fine Ma Bodine? Nooo Cazzo, ma... dice... Dead body reported 0 su 1 E dove cazzo sarebbero? Non è quello l'ingresso che dicevi prima? Eh si, l'ho reportato e io quello... E manca la pistola di merda che non trovavi prima? Ah... Siamo stati bravi, dai